così come questo nuovo video vi insegnerò come costruire cose in automatico prima di tutto date su play store e vi scaricate building for minicraft lo ho già installato e poi apri lo aprite e insegnate la vostra costruzione io per adesso per farvi vedere voglio una carina ricchi anche se ve la devo mostrare no questo no pure questa è bella sono indeciso vabbè poi mi faccio anche quella sotto prima di install poi vi scegliete il mondo di minicraft io tipo su questa voi ve lo piazzate dove più credete comodo aspettate e però dovete spostarla io non modo in cui non vi dà fatidio e nell'altra costruzione è che sapete io ho già una costruzione beh raga dove lo ti ok ragazzi lo spostate così spero che qua vada bene no ancora un po un altro po un altro pochino è fatta ok dobbiamo uscire da quella costruzione che se no non va bene ok ora dovrebbe essere apposto si ora apposto pacchi di costruzione fatta uscite funziona solo con il microst originale entrate sul microst andate sul mondo che l'avete costruito possono anche sopravvivenza se avete il mondo in sopravvivenza funziona lo stesso non lo so io non so proprio tu questa è la mia vecchia costruzione che eccola qua e io mi sono scordato di abbassarla vabbè ragazzi però guardate che figata è davvero bella fare il caso non volete ecco vedete e la leva che serve che servono queste leve ok poi non so so così fa tipo l'effetto che scorre giù guardate è senza si si e come dentro ah dentro è bellissimo tutto il tappeto rosso è bello è bello andiamo al piano di sopra a vedere ma che villa che villa qua dove si va mi sa una spesa di sotterraneo poi nel caso non vi piace la volete modificare voi normalmente no no perché non passi scusa botola la cassa è vuota io ho la modalità vecchia perché mi sono voluto tenere il classico di minecraft però è la 1.9 qua che cosa c'è è la terrazza ragazzi ve lo consiglio un botto beh lo so che si può costruire anche normalmente però può costruirsi normalmente se metti qualche giorno qualche mese o forse un anno a costruire una roba del genere guardate quanto è fatta bene guardate sono fatte davvero bene io infatti do i complimenti a quello della fata do i complimenti al creatore perché è stata inventiva davvero grossa e io non sapò più come si saliva è davvero grande questa casa è bellissima e pure la scaracchiocciola pure la scaracchiocciola che io non riesco mai a salire bella oh ma ragazzi ma questa se la costruite ditelo però è una figata passiamo un attimo di là e non ci passi facciamo un attimo di qua questi sono i cancelletti vediamo bella ah si stavo direttamente la botola per salire vabbè ragazzi è davvero bella la potete fare anche in sopravvivenza dove vi pare creativa sopravvivenza ora facciamo una prova anche in sopravvivenza sempre con la stessa app eh però non direi creiamo un altro mondo creiamo un altro mondo creiamo un mondo buono e facciamo un casaco non lo abbiamo casato a chi lì? ecco no non lo so non so per la stessa app però mettiamo piaccio in sopravvivenza in sopravvivenza ah in creativa però vabbè possiamo sempre cambiare in sopravvivenza ok il mondo ci sta creando mettiamoci di sopra ok ora siamo in sopravvivenza io ora vi faccio vedere chi è la nostra eh speriamo è sempre sulla stessa app vi sfogliate sempre una bella casa qua normalmente sono tutte belle sono ville e la madonna ma che fighe che è vabbè oh se noi andiamo ma che be uh no io questa voglio raga però si impegniamo un po' di più ma perché non è piatto? oh si è piatto ok vi impegnate un pochetto? è perché lì impegno normalmente alla fine più vale più perfetto vai col guida andata andata che è andata? mi faccio vedere un attimo prendo il luogo ah no vedi che non è andata guardate no ragazzi no eh però ti puoi mettere la puoi fare in creativa e poi ti metti in sopravvivenza vediamo mettiamola ora che stiamo in sopravvivenza eh vedete che ma vedete che che furbizia brucia ah no mi si è fatta non l'ho vista io oppure non mi si è fatta mi sa che si è fatta da un'altra parte entriamo nel gioco no mi si è fatta da un'altra parte eh vedete che magari certe volte vi capite che vi si fa un'altra parte però queste queste costruzioni sono davvero belle normalmente penso che sono inventate come perché dalla realtà mi sa beh anche nella realtà ci metti di più di una stavosa gigante no ragazzi eccola mi si è fatta New York siamo in sopravvivenza e guardate qua che villone non guardate dove chi entra ma da dove chi entra da qua amica e la porta non tu la porta guardate che figata è dentro qua guardate con che presa i carri fatti così mamma mia mamma mia veramente mamma mia ragazzi è davvero funzionante questa pericura non l'ho costruita io perché sennò avrete ma che è quella che è scatata d'acqua è una specie di acqua ah è bagliata la fa sempre bagliata mettiamoci un attimo creativo così magari vogliamo che si andiamo lentissimi guardate guardate vi spero che vi piace perché e comunque mi dispiace che non mi seguite perché io porto sempre cose nuove cerco sempre app per farvi felici però adesso ancora nessuno mi segue mi segue qualcuno così ho stato a casa guardate qua ma se no vabbè ma guardate guarda un po' di non so pure però è più più bella ma vabbè però è bella e qua che cos'è h c'è c'è l'atterrata ma si possono cambiare ma vedi qua si pianta qualcosa ecco tipo queste cose tipo qua da pares diventate qualche fiore e c'è una cosa strana ok e c'è una cosa strambica va bene ok che serve è tipo il bar è tipo il bar mamma mia mamma mia raga ho tipo una via di fuoco il bar è pronta è aperta però è bella ok mi sa che la torta si comparsa ecco come si passa ah poco non si può passare privato zac privato si può passare questa è la cucina mi sa che l'ha posizionata ma la posizionaremo noi bene bella 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 si smeraldi per te ci fanno questi e magari pure queste bolle per dire che questa mi sa che è la doccia il bagno eh si si questa vici fatto davvero bene ve la consiglio un botto ma guardate un po' se c'è ah il binario ho lasciato se me lo mangiato è una piscina eh però raga dovete se ne vuole di tempo a mano chi andrebbe di farlo ma guarda ma io non so e poi vi potete vi potete anche vantare con gli amici che tipo guarda questo sono bravo guarda quanto sono messo un botto a costruire questa davvero bella ti piace vi andate con gli amici guarda che bellezza sono messo un botto da quando sono piccolo che mi si stanno begnando c'è vi potete vantare con chi vi pare con i vostri genitori con cosa non oltre amici con chi vi pare ma questa non mi dire che è quello che penso io ragazzi è quello che penso io c'è anche una macchina normalmente non funzionante però è sempre figa una macchina per me è lo stesso figa guardate assomiglia una macchina vabbè questo video finisce qua sono stupido non mi aspettavo costruirò mille in 10 secondi bella bella a tutti